Benvenuti nella rubrica Film al Cinema, dove si recensisce un film appena visto in sala dal sottoscritto. Il film di oggi è I Spiriti dell'Isola. Cominciamo! Film di Martin McDonagh con Colin Farrell, Brandon Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan del 2022. 1923. Siamo agli sgoccioli della guerra civile in Inghilterra. La storia è ambientata sui Nisherin, isola immaginaria in cui gli abitanti vivono una vita fuori dal mondo e completamente disinteressati alle sorti del conflitto in corso, alle prese con l'agricoltura e frequenti bevute al pub. La normalità viene sconvolta quando il violinista Colm si rifiuta di trascorrere altri minuti con Padraic, quello che fino al giorno prima si considerava suo migliore amico. McDonagh torna a dirigere il duo Farrell Gleeson per la seconda volta dopo il meraviglioso Imbruz e la narrazione riesce a comprendere il punto di vista di entrambi, per quanto il film si preoccupa di farci percepire la sensazione di desolazione e solitudine che avvolge il personaggio di Padraic, che non può fare nulla di fronte alla scelta dell'amico. L'abile e invidiabile penna di McDonagh si diverte come di consueto nella scrittura dei meravigliosi dialoghi colmi di ripetizioni, intuizioni e elementi che la sceneggiatura tiene a far tornare in un modo o nell'altro nella storia, con un incredibile gusto narrativo. Le parole dei protagonisti, anche se spesso grottesche, sono estremamente dirette e lasciano poco spazio ad eventuali interpretazioni, e in questo sanno come essere dolorose e straziare lo spettatore. Il pubblico, proprio come protagonista però, non volendo arrendersi e rassegnarsi a quello che sembra essere inevitabile e spiacevole, finge di travisare il significato delle parole, di sperare che si tratti di un'incomprensione, pur di non soccombere alla disperazione. Con un ritmo sinuoso e dei dialoghi sempre frizzanti, la narrazione procede, costruendo una suspense che inchioda lo spettatore alla poltrona e lo immerge in un tour de force di emozioni. Il meccanismo di suspense consiste nella speranza da parte dello spettatore che i vari tentativi di riconciliazione del personaggio interpretato da Colin Farrell vadano a buon fine, unita alla paura che questi possano fallire. Quando tutto sembra perso, il film si diverte a crearci delle illusioni, a rilasciare la tensione, per poi tornare a sbatterci in faccia la realtà difficilmente accettabile. Mentre compatisce il povero Padraic alle prese con la solitudine più incombente, il pubblico comprende i tormenti del personaggio di Brandon Gleeson e il film tocca, con una leggerezza solo apparente, temi quali l'ineluttabilità del destino e la consapevolezza di un'esistenza inutile senza scopo. Come solito nel cinema di McDonagh, i protagonisti perseguiranno con ossessione e testardaggine i loro obiettivi e le loro ossessioni mentali, anche quando la logica non è dalla loro parte e anche quando a pagarne il caro prezzo saranno persone molto vicine. La Mildred Ace di tre manifeste bimissuri va avanti nella sua lotta personale contro la negligenza della polizia anche quando tutti sembrano allontanarsi da lei e dalle sue scelte. Il folle Billy di sette psicopatici, pur di giungere ad una cinematografica sparatoria con i villain, metterà a repentaglio la vita dei suoi più cari amici, ma tenterà senza sosta di mettere in atto il suo piano. Lo spettatore, anche quando le scelte dei protagonisti finiscono per compromettere gli altri, non riesce mai a giudicare come sbagliati i personaggi principali, anche perché arriva a comprendere il loro pensiero, spesso folle, e soffre insieme a loro nel vedere alcune scelte che sul mondo esterno si tramutano in violenza. I personaggi si riempiono inevitabilmente di sensi di colpa nel vedere le terribili conseguenze delle loro azioni, ma nonostante ciò la loro decisione rimane irremovibile. Il pubblico si rispecchia nel punto di vista e nei dolori di tutti, e la mancata possibilità di scampo da un perverso meccanismo di ripicche e gesti folli rende la conclusione apocalittica e di una potenza enorme. Ritroviamo nel cinema di McDonagh l'amore incondizionato per gli animali, che spesso arriva a superare quello per i propri simili e che diventa un altro motivo di ossessione. Pensiamo al Charlie Costello del già citato sette psicopatici, criminale sanguinario, che non si fa problema a sparare ad una donna, ma che piange quando non riesce a ricongiungersi con l'amato cane. Anche in Gli spiriti dell'isola troveremo questo tema, trattato con la solita maestria del regista. In un film così umano, improntato sulla psicologia dei personaggi, la scelta di inserire un elemento mistico e sovrannaturale dell'inquietante personaggio che prevede il futuro risulta leggermente fuori luogo, per quanto doni al film un'aura di mistero e alcune scene da risvolti comici memorabili. Meravigliosi personaggi di contorno, tutti caratterizzati in maniera ineccepibile. Stessa cosa vale per l'ambientazione che regala suggestivi scorci paesaggistici. Le numerose risate degli spettatori si tramutano in altrettante smorfi di dolore e viceversa. Tutto è amalgamato alla perfezione. Da vedere a tutti i costi, voto 9,5.